Willkommen, bienvenue, welcome, friends, étrangers, strangers, plus click, choose in, just please enchanté Diana! Arturo! Anzi dovrei dire Sally! MC! Certo, in cabaret, dal 18 ottobre qui al Brancaccio e in tutti i migliori teatri italiani! Però spieghiamoci! Dobbiamo tuffarci nel 1930! A presto! Spazio Marco Temporale! Amici sono contentissimo, sono gasatissimo perché sto per entrare nei panni di MC, il Master of Ceremonies del musical cabaret che arriva in Italia nei più grandi teatri da Torino dal 10 ottobre ma poi il 18 ottobre al Brancaccio di Roma, al Nazionale di Milano, a Genova, a Napoli e in tante altre belle città in bei teatri. Quindi, Willkommen, bienvenue, welcome! Ciao ragazzi! Mi sto preparando per cabaret musical, interpreterò Sally Bowles e sono molto contenta perché mi vedrete come mai prima d'ora. E niente, saremo a Torino dal 10 ottobre, a Roma dal 18 ottobre, poi Milano, Trieste, insomma, in tutti i migliori teatri italiani. Vi aspetto lì! Grazie! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! My hair, it fall by eu You know me already My hair And bye bye, bye bye my leave a hair I said where my leave a hair It was a fight affair, but now it's over And though I used to care, I need an open air You're better off without me, you're getting on without me Mine thing, it was very good Mine! Mine thing, it was very good Grazie!